Allora, siamo sempre a testaggio in occasione del Moocongress 2014 che si conclude oggi. Cogliamo l'occasione per fare un bilancio con tre presidenti UISP tra presente e passato. Iniziamo da Filippo Fossati. Io sarei nel mezzo veramente, in tutti i sensi. Il bilancio di questi tre giorni? A me sembra una bella occasione. L'UISP, parliamo di UISP, siamo i presidenti ex past dell'UISP. Con questo fine settimana e con questo congresso la UISP si accredita come l'unica associazione di sport per tutti in grado di sostenere un impegno verso le istituzioni, verso i cittadini, verso il mondo della cultura, verso il mondo della comunicazione. Sui temi che riguardano la propria attività, accreditarsi come l'unica associazione che può farlo, può farlo bene, può rappresentare una risorsa per questo mondo. Non ci sono altri soggetti, io credo, oggi in grado di raggiungere questo livello. Se c'è da fare un'azione per insistere con lo Stato italiano, con l'Unione Europea, perché si cambi marcia e finalmente in Italia, in Italia proprio finalmente che non ci sono mai state, in Europa perché si acceleri un processo che invece è già iniziato, di sostegno, di diffusione della pratica sportiva presso tutte le persone, indipendentemente dal loro talento, insomma la nostra missione sociale. Ecco, se c'è una forza che può avere la credibilità per essere un interlocutore, questa forza è la UISP. E quindi questo fa piacere, perché non è un'associazione questa che nasce, che si sviluppa per stare in un mercato, fare la concorrenza sulle brisciole dello sport ufficiale. Questa è sempre stata un'associazione e lo sarà sempre, che vuole giocare un proprio ruolo politico, politico-sociale di prima grandezza. Quindi, bello, ecco, questi sono giorni che rafforzano quest'idea. Bene, grazie. Passiamo la parola a Nicola Porro a questo punto. Non posso dare valutazioni su questo congresso, cheppure è, come è giusto sottolineare, un appuntamento importante. Quello che posso rilevare, guardando un po' in prospettiva temporale, essendo il più anziano dei presidenti presenti, degli ex presidenti presenti, è che forse si sta portando a compimento un processo che nasce negli ultimi decenni del secolo scorso, anche se sembra un po' infatico fare riferimento ai secoli, che è la fuoriuscita di un modello di organizzazione dall'esperienza che era stata tipica della cultura politica italiana, del collateralismo, cioè le grandi organizzazioni di massa, non soltanto quelle politiche, anche la Chiesa Cattolica, tante organizzazioni che gemmavano organizzazioni che riproducevano la società e gli interessi della società, compreso lo sport, a un'organizzazione cerniera come la nostra, la quale si pone come interlocutore, certamente ancora del sistema politico, che è quello che poi alla fine prende le decisioni, ma anche di sistemi sociali più complessi. L'attenzione che questo congresso ha dedicato alla qualità della vita urbana e al sistema di relazioni in una comunità mi sembra indicativo di un cambio di paradigma. Ecco, questo lo vorrei sottolineare perché in effetti è un'esperienza che la WISP ha in gran parte mutuato dalla tradizione dello sport per tutti, dello sport di cittadinanza nord-europeo, ma che ha saputo anche interpretare in maniera originale. Quando gli ultimi dati del nono censimento Istat, che è stato pubblicato nel luglio di quest'anno, danno cifre di riferimento considerevoli rispetto a quello che è la consistenza dell'associazionismo sportivo all'interno del terzo settore, si dà un segnale chiaro di quanto la WISP nella sua storia è riuscita ad intervenire sul terreno della promozione sociale e quindi non solo all'interno oggi sempre più angusto sistema sportivo e che con il congresso internazionale di ISCA che noi in questi giorni abbiamo portato a Roma afferma ancora di più il proprio ruolo di associazione sportiva ma che agisce quotidianamente essendo radicata su tutto il territorio nazionale all'interno della promozione sociale. Noi abbiamo portato qui buone prassi, buone pratiche, workshop quindi di confronto per far vedere a questo paese quindi spingendo sempre più in avanti quella che deve essere la promozione di una cultura sportiva aperta sempre più in avanti quindi guardando ad un orizzonte lungo di quello che deve essere il ruolo dello sport per tutti, dello sport di cittadinanza che sempre di più si innerva come paradigma dei diritti universali di tutti i cittadini. Questo è un congresso internazionale quindi lanciamo un messaggio da questo punto di vista qua al mondo e quindi la presentazione di queste buone pratiche sono anche una dote che noi consegniamo per la nostra capacità di stare nel rapporto con le istituzioni italiane nel rapporto con le istituzioni europee quindi anche quelle internazionali di essere un soggetto che ancora ha credibilità e quindi ha anche come dire appetibilità da parte dei cittadini vista la crisi della rappresentanza, della politica e quant'altro che può essere messo a disposizione per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, delle comunità quindi dal benessere individuale realizzare il benessere collettivo in una visione europea e internazionale questa è una dote che oggi noi consegniamo alle istituzioni, alle reti sociali e soprattutto visto che abbiamo anche avviato una nostra fase di autoriforma anche ai nostri comitati territoriali ai nostri comitati regionali, alla nostra organizzazione. Insomma un grande passo avanti e credo che abbiamo strada da fare ma anche grandi traguardi da poter raggiungere. Grazie, grazie a tutti e tre.